Comuni e prefetture devono collaborare con le istituzioni sanitarie per promuovere un miglioramento dell'assistenza di persone con problemi di salute mentale. Così la Fiaso, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, che conta tra i vicepresidenti anche Antonio Durso, direttore dell'ASL Toscana Sud-Est, commentando la morte della psichiatra aggredita venerdì davanti all'ospedale di Pisa da un ex paziente. È solo l'ultimo episodio di una serie di atti violenti contro il personale medico in Italia. Le istituzioni sanitarie da sole non possono farcela, serve l'aiuto di comuni e prefetture. Anche Lorenzo Droandi, presidente dell'Ordine dei Medici di Arezzo, stigmatizza. Non può più essere procrastinabile la messa in opera di atti concreti a tutela dei medici e degli operatori sanitari e sociosanitari. Tra le azioni stigmatizza Riccardo Bassi della prevenzione e aggressione del personale sanitario della Sud-Est, anche quella di sensibilizzare maggiormente la popolazione. Cosa è possibile fare? Bisogna agire sulla gestione del rischio all'interno delle aziende, bisogna agire sul personale sanitario con la loro formazione alla de-escalation, bisogna agire sulla popolazione come educazione ad un fatto culturale di una relazione e comunicazione non violenta. La violenza è un fatto culturale e agire su questo è il primus movens per ridurre gli atti violenti contro gli operatori sanitari. Agire con violenza contro gli operatori sanitari non può che portare ad una riduzione delle performance del processo di cura. Grazie.